E oggi qui sul prato di Pontida, anche Guido Podestà, candidato alla presidenza della provincia di Milano, una scelta, la sua Podestà che segna l'avvicinanza con l'Alleato Leghista. Sottolinea l'avvicinanza con l'Alleato Leghista perché in tre anni da commissario per la provincia di Milano per Forza Italia e nell'ultimo anno come coordinatore regionale del Popolo e Libertà, io devo dire che ho sempre trovato negli amici della Lega una grande coerenza, una grande capacità di condividere progetti e di realizzarli. E quindi il fatto di aver accettato l'invito cortese che mi è stato rivolto deriva non soltanto dal desiderio di ribadire che abbiamo una battaglia in comune per la provincia di Milano, ma ha anche il significato di sottolineare l'avvicinanza profonda al di là del fatto elettorale. C'è una realtà strutturata di questa alleanza, alleanza che consente a Berlusconi di governare a livello nazionale con il ministro Bossi e con gli altri ministri del governo. C'è la stessa vicinanza, alleanza profonda per il governo di Roberto Formigone, ormai da tanti anni alla Pirellone. Abbiamo prima con Albertini e poi con Letizia Moratti un rapporto forte e stretto per quanto riguarda il governo di Palazzo Marino. Ma quante sono le province che governiamo insieme? Parlo solo della Lombardia, tantissime. Quanti comuni sopra e sotto i 15.000 abitanti? La provincia di Milano resterebbe un'anomalia, un'anomalia nella quale un governo di sinistra si dimostrerebbe in futuro incapace come è stato in questi cinque anni. E allora, come diceva anche il ministro Roberto Castelli, non abbiamo bisogno, in un momento in cui si devono realizzare le infrastrutture per Expo, di avere qualcuno che fa lo sgambetto. Abbiamo bisogno di remare tutti dalla stessa parte. Milano e la sua provincia devono essere sempre più la capitale economica morale di tutto. Il nord potrebbe essere di fatto un rilancio anche per un'area che sta vivendo una crisi economica notevole? È così. Oltretutto se va in crisi quello che è il motore della Lombardia, quindi il motore d'Italia, è chiaro che tutto il resto ne risente. Allora il fatto di fare riaccelerare la grande Milano è un imperativo categorico e lo possiamo fare proprio in quanto vi può essere coerenza ai diversi livelli di governo. È impensabile riuscire a fare questa rivitalizzazione di un tessuto economico che è vitale ma che sente la crisi mondiale. Non può non sentirla. Allora c'è la necessità di far sì che questo si riconduca a questa alleanza forte, alleanza nella quale si condividono le priorità, i principi e soprattutto l'interesse per la gente. Guardi, dall'altra parte si cerca soltanto di ragionare in termini di vantaggio, di potere, di gestione del potere fino a se stessa. Noi mettiamo, noi del popolo della libertà, ma noi anche alleati con la Lega, sentiamo di avere come primo fondamentale interesse quello dei cittadini. È questo che ci unisce, è il fatto di capire che la politica è servizio. Servizio per la gente, per la gente normale, per la gente che si alza al mattino e fa fatica ad arrivare alla sera, che sbatte tutto il giorno. Questa è la nostra gente, la gente di Lombardia e noi a questa gente vogliamo dare il massimo.